Alla festa di San Pietro a Riva, la comunità parrocchiale si è avvicinata con un tempo di preparazione sfaccettato che ha unito formazione, riflessione e fraternità. Abbiamo avuto la prima sera la tavola rotonda sulle fatiche e sulle speranze del nostro paese, poi abbiamo fatto la pericena con un po' di musica pop che ha visto una buona partecipazione di gente. Il concerto tibuto a De Andrè, fatto da un gruppo di parrocchiani totalmente autoprodotto, in semplicità ma con passione. La cosa bella è che ci siamo un pochino ritrovati nel piazzale qua intitolato Don Antonio Pestagno in due bellissime serate che hanno veramente fatto risorgere un pochino il piazzale perché è spesso molto abbandonato, invece in questo momento siamo riusciti a riconiugare un pochino quello che è lo spirito della comunità. La festa arriva alla fine del mese di giugno ed è un modo semplice per accogliere i tanti turisti che trascorrono un tempo di riposo nel paese. E' un po' cercare di fare spazio e andare a trovare il centro di quello che è la nostra fede. Siamo una porta aperta perché ci apprestiamo a vivere anche il tempo estivo in compagnia dei bagnanti che per noi sono una ricchezza e un confronto. Per qualcuno il tempo delle ferie è diventato un trasferimento vero e proprio. Ilia Melloni, originaria di Milano, vive arriva dal 2022. Subito appena arrivati a dicembre del 2002 ci siamo presentati a Don Pessagno anche se noi dovremmo andare a San Bartolomeo e invece siamo venuti qua subito, ci siamo trovati benissimo, abbiamo legato parecchio. La comunità è cresciuta, lo hanno notato residenti e turisti, lo ha sottolineato il parroco concludendo la processione presieduta alla vigilia della festa dal vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini. Nelle sue parole l'invito a fidarsi dell'amore di Dio sull'esempio di Pietro posto come fondamento e sostegno della Chiesa per la forza della sua relazione con il Signore. Quel d'ora in poi che Gesù dice a Pietro sarai pescatore di uomini, ecco d'ora in poi siamo rilanciati per continuare un cammino che può fare crescere ancora la nostra vita di comunità.